Salve, mi chiamo Antonio, vivo a Milano 2, in un palazzo costruito dal Presidente del Consiglio. Lavoro in un'azienda del Presidente del Consiglio. Tutte le mattine compro il giornale di cui è proprietario il fratello del Presidente del Consiglio. Ah, oppure quello della moglie del Presidente del Consiglio. La mia banca è del Presidente del Consiglio, come l'assicurazione che gestisce la mia previdenza integrativa. Faccio la spesa in un supermercato del Presidente del Consiglio. E compro prodotti di aziende partecipate dal Presidente del Consiglio. Quando vado al cinema, vado in una sala del circuito di proprietà del Presidente del Consiglio. E guardo un film prodotto e distribuito da una società del Presidente del Consiglio. Se resto a casa, guardo le TV del Presidente del Consiglio, dove i film sono continuamente interrotti dagli spazi pubblicitari venduti dalle concessionari del Presidente del Consiglio. Soprattutto guardo i risultati delle partite. Perché faccio il tifo per la squadra del Presidente del Consiglio. Quando mi stufo, leggo un libro, la cui casa editrice è del Presidente del Consiglio. Io vivo in Italia, dove, come in ogni paese democratico, il Presidente del Consiglio propone le leggi, che poi vengono approvate dal Parlamento, la cui maggioranza è in mano al Presidente del Consiglio. E che ovviamente governa nel mio esclusivo interesse. Per fortuna.